Ascolta, sento una voce. Un elfo? Non penso. Viene da lassù. La voce è dietro l'angolo. Oh! Gran bello spadone. Buon bello. Vuole sapere se siamo pronti ad allenarci? La porta è chiusa. Ragazzo, preparati. Bene. Droger, dietro! Altri dietro! Ciao! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ce l'abbiamo fatta! Incredibile! Bene! E ora il tesoro! Non sarebbe bello trovare dell'incenso ogni tanto? L'odore di Zolfo stanca in fretta. Dici, c'è un'altra sfida simile a questa. Ancora più difficile. Stai pronto? Sì. Altri droghe! Arroba! E ora non posso! Rediniva dietro! Non so, non so, non so. Non so, non so, non so. Grazie a tutti. Rettiva alla tua destra. Pronto? Veleni in arrivo! Quasi frutti! Puzzlewurm, dietro! Puzzlewurm, dietro di te! Ancora no, scusa! Puzzlewurm! 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 Un'altra porta aperta! Un'altra volta! Ok, sono pronto! Droghe! Quasi arrivo! Puzzlewurm! Quasi arrivo! Quasi arrivo! Quasi arrivo! Arto via! Cuoco in arrivo! Arto via! 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 Arto via!